Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone Allora, scusate se non vi ho fatto il vlog ieri ma col discorso che ho fatto la notte domenica e tutto il resto poi mi sono preso malissimo per Space Engineering come avete potuto vedere chi mi segue in live o altro mi sono dimenticato di farvi il vlog per questa settimana Allora, oggi cominceremo un po' prima penso per le due circa perché devo andare a letto presto in quanto stanotte purtroppo non sono stato benissimo come potete vedere dalle mie bellissime case non ho dormito un cazzo quindi per cui devo andare a letto presto per cui anticiperò per le due, due e mezza la live con i conti vampiro magari faccio tre ore, ok? però stacco prima Turni della settimana Allora, oggi è il 27 agosto benissimo Allora, domani dopo domani ragazzi live nel pomeriggio finisco alle due per cui penso per le quattro sicuro purtroppo non sono riuscito a peccarmi con un ragazzo però vediamo se riesco a recuperare lo stesso per fare dei video magari questo pomeriggio se stacco prima faccio quel video lì che comunque poi vedrete più avanti allora, oggi live di Warhammer perché voglio giocare Warhammer domani dopo domani probabilmente si sarà Space Engineering e Warhammer o mercoledì o giovedì adesso vediamo un attimo cosa voglio di giocare comunque andremo avanti con la campagna con i conti vampiro e continueremo ad andare avanti sul server di Space Engineering del buon caro Incubus che vi invito a gioinare se avete Space Engineering perché comunque è un server italiano gratuito Incubus ci sta dietro c'è una community c'è Discord e tutto per cui vi invito a unirvi al server vi lascio in descrizione l'IP del server ok poi venerdì sabato e domenica faccio pomeriggio indi per cui usciranno sei video ok tre video saranno alle due del pomeriggio del buon vecchio bastardo mio caro elfo schiavo Max ok no scherzo a parte che voglio un bene assurdo è un mito col uomo con la 1220 continuerà con i suoi francesi con la sua storia del vino speriamo che riesca a unificare la Francia a prendersi su tutto sto vino perché ha rotto le balle anche se io preferisco la birra poi non so in che ordine ma comunque in questi tre giorni usciranno un video di fallout per cui diciamo cominciamo fallout 2 il primo episodio ufficiale ok la prima mezz'oretta poi uscirà un altro video riguardante sempre l'universo di fallout 2 però adesso vedo se riesco a beccare quest'altro ragazzo al massimo lo faccio da solo però praticamente vi faccio vedere un server multiplayer di fallout 2 ok il pvp attivo queste cose ma ne parleremo meglio in altro video terzo video della settimana sarà un cosa ne penso del fatto di age of wonder planet fall che molti di voi hanno seguito ok vi ringrazio tanti perché ha fatto tipo 90-100 visualizzazioni e non è niente male ho fatto dei let's play purtroppo non mi prende e lì vi spiego il perché e per come ok poi lunedì e martedì faccio la notte indi per cui nel pomeriggio ci becchiamo per le live se c'è Max magari cerchiamo di combinare la campagnetta mia e sua oppure no diciamo per ora vi ho detto tutto il turno della settimana per la mia settimana lavorativa sono andato anche settimana prossima però preferisco dirvi adesso il turno che così siamo a posto io ragazzi volevo farlo su facebook però preferisco farlo su youtube perché riesco ad arrivare a molte più persone vi ringrazio per la compagnia che mi fate in questo periodo in questi giorni ringrazio Stefano 117 Lorenzo per la bellissima live di ieri sera mi è piaciuta molto spero di farne altre così perché ragazzi è stato veramente veramente bello poi noi abbiamo fatto tipo mezzanotte e mezza luna e continuare a chiacchierare per cui ragazzi vi invito trovate comunque il canale di Stefano in descrizione iscrivervi al mio canale e al suo canale per restare in contatto diciamo su tutto quello che riguarda i Total War e in particolare con Stefano la lore di Warhammer Warhammer Fantasy Warhammer 40.000 spero di cominciare a fare video anche con gli altri canali amici il quanto il prima possibile comunque vi ringrazio perché ieri sera fino alle 11 e mezza non eravamo tanti eravamo 7 e 8 però c'è stato del bello chiacchierare ci siamo scambiati gli iscritti è stata una bella serata per cui vi invito appena so quando faremo un'altra live assieme a partecipare da me o da Stefano ragazzi è uguale l'importante è che partecipiate e vi divertiate insieme con noi per il resto c'è un'altra cosa a dire ma non mi ricordo pazienza sarà per la prossima volta 5 minuti 6 minuti di video vabbè ragazzi buona giornata buon inizio settimana in ritardo e alla prossima ciao ciao